Ciao ragazzi, ciao Vitamina Molto bella comunque di un rossetto, soprattutto le labbra ci rimangono idratate Ma vediamo subito all'interno cosa abbiamo e poi parliamo dei rossetti Innanzitutto abbiamo il Far Away da 100 ml a 19,99€ Cioè veramente da 100 ml conviene prendersene un bel po' visto che è un profumo che piace Ovviamente acquistando sempre un prodotto Andiamo bene al primo rossetto matto al mondo dal cuore idratante di acido ialluronico Con oltre il 50% di ingredienti idratanti e protettivi Abbiamo tantissime tonalità 15 tonalità Vi faccio vedere molto più da vicino Ci sono belle Io ho preso il Siren Red Però sono bello Nessante ne vorrei prendere altre Però ci penso Comunque colore intenso, nutriente, matt Colore vibrante, idratazione istantanea Infatti vedete Persiste sia a lungo sia l'idratazione Ma anche il prodotto Comunque costerà 9,99€ Ed è matt Poi abbiamo un'offerta bomba Che secondo me è un'offerta da prendere al volo Matita più rossetto sempre questo matt 11,99€ Ma la cosa bella di questo catalogo È che automaticamente inserendo il codice del rossetto Avon vi manda la tonalità che avete scelto Cioè veramente una cosa troppo bella Soprattutto perché io Perdo sempre tempo con alcuni clienti Che hanno sempre la scelta del Della matita Che a volte non si abbina Che a volte non è giusto Invece in questo catalogo Avon ci ha pensato direttamente Lei E sono contenta perché vi manderanno anche un campioncino Del profumo nuovo Frawai Poi abbiamo i mascara Io vado sempre E mi concentro sempre su offerte Promozioni Mascara Eyeliner Power Stay Settevro e 99 Lunga durata 24 ore Ma ancora non l'ho mai provato Questa pennellina Poi abbiamo Speciale sopracciglia Matita a 4,99 euro La Micro Fine Quindi quella Che ha la mia fine Poi abbiamo Power Stay Fondotinta Che dura 24 ore 11 euro e 99 E' buono come fondotinta Poi abbiamo Acquista Un fondotinta Il secondo 7,99 euro Correttori Illuminanti Blush Rossetti Sì 6,99 euro Tinta Labbra Power Stay Finalmente Raga Perché me l'hanno chiesto Tipo un miliardo di persone Adesso Finalmente è ritornata 10 euro e 99 Veramente Ma la tinta Power Stay Che fino ha fatto E io Non lo so Però la rimetteranno presto Finalmente Sapete che è super matto Sì Dura tantissimo Altri rossetti Due labbra Nemoliente labbra Lipoil 6,99 euro 8,90 euro Smalto Più il top coat Esatto Due prodotti Non sbaglio Vabbè Due prodotti Potete scegliere anche Due smalti volando Poi abbiamo la base Per le unghie Rinforzante 4,99 euro Poi abbiamo un set Molto carino Anche se non se lo cagava Nessuno prima Magari Penso che Adesso se lo cagheranno Sono tre prodotti 12 euro Cosa costituisce Una crema Ristrutturante Per le cuticole Uno Spingi cuticole Rose gold E un trattamento 7 in 1 Avon Nile Expert 12 euro 4 euro L'uno Poi abbiamo i pennelli Alcuni accessori Il siero Renewal Questo è un siero buono Un'idrata la pelle L'illumina La rende radiosa È un 7 in 1 19,99 Infatti Linee sottili Dall'aspetto ridotto Pelle dall'aspetto più tonico Levigato Pelle radiosa Pelle dall'aspetto ridotto Pelle che si sente più forte E pelle più elastica Poi abbiamo l'altro siero Il concentrato antirughe Quello che ha l'acido Il loro unico 3,5% 16 euro E 99 Poi abbiamo i set Che potete acquistare Tipo Cremona giorno Notte Più il siero In base Tipo Alla vostra pelle Reversaliste 38,99 euro Poi abbiamo i sieri Contorno occhi Che ancora quello Non l'ho potuto provare Siero alla vitamina C 16,99 Diciamo che vedo qua Nella linea Sensitive Più qualche sconto Tipo il detroit In crema Che mi avete consigliato Che mi avete detto Che è buono Che ho detto Che una ragazza Mi ha detto C'è la terza volta Che lo prende E mi ci trovo bene Sicuramente Se lo prenderei Anche tu Dici Ti ci troverai bene Lo proverò 6,75 euro Una volta che hai sconto In questo In questo catalogo Sicuramente farò l'ordine Lo prendo Poi Crema Contorno occhi 12,99 13,99 La crema La crema la trovo Molto Molto valida Perché Per chi ha la pelle Comunque sensibile Trovo miglioramento Poi abbiamo In teoria Le acque micellari Queste di Agno Che sono 8,50 euro Tutte Poi abbiamo Altri prodotti Che non sono in offerta La linea Per la menopausa La linea Cannabis Sativa Oil Poi abbiamo La crema Trattante colorata Radiance Fattore protezione Solare 20 Per pelle normale Una formula leggera Non grassa Si sfuma facilmente Per una radiosa luminosità Adatta alla pelle sensibile 5,99 euro Poi abbiamo Due prodotti A 9,90 euro Per quanto riguarda Nutri Effetti Sia per le mista Per le grassa Per le sensibile Poi abbiamo Le creme Maschere Poi abbiamo Tutte e tre Prodotti Di Today Cioè Fraganza Da 50 ml Quindi profumo Crema corpo E spray da borsetta 24,50 euro Poi abbiamo Gli altri Tipo L'Always Quindi il set Tomorrow Profumo L'Ozione corpo E spray da borsetta 24,50 euro Oppure l'altro L'Always Che è bellissimo Sempre le stesse cose Ci sono 24,50 euro Poi abbiamo Una nuova fragranza Che già non Questa l'abbiamo vista Nell'anteprima Nel video Che vi dicevo Delle novità Abbiamo Avon Attraction Intense Per lui E per lei Sono tutte Due belle Fraganze Ho sentito I campioncini E mi piacciono Troppo Sembrano simili Le fragranze Attraction Sia per lei Che per lui Quelli che già noi Conosciamo Però Con una fragranza Molto più intensa Costano 19,99 l'una Ci sono le pagine Profumate Quindi per chi Non è campioncino Può strofinare Il polso Lì e sentire E poi abbiamo Far Away Il set Splendoria 24,99 Profumo L'ozione Corpo E Spread A borsetta Il set Far Away Glamour Profumo Più L'ozione Corpo Di Sonne Nell'amanta Poi abbiamo Gli altri Tipo Lincoln C'è un senso Soft mask E pur Blanca Poi abbiamo Il little black dress Lace 17,99 Sia profumo Che lozione Corpo Poi abbiamo Offerta plus Potete scegliere 3 a 39,99 euro Dove abbiamo Rare Onyx Rare Gold Leve Leve Prive Che è bellissimo E il Rare No E il Fra Away Rebel Che è anche bello Come profumo Stupendissimo Hanno tutti un valore Di 17,99 Però se ne prendete 3 Li pagate 40 euro Se vorrei dire Si può fare Poi abbiamo Due lozioni Oppure due detergenti Corpo A 7,90 euro Le fragranze Invece sono sempre Lo stesso prezzo Poi abbiamo Gli altri prodotti Che non sono in sconto Set Attraction Profumo Più detergente Corpo e capelli Per uomo 22,50 euro Alcuni set Sconto a 16,99 Come i full speed Individual blue 14,50 Abbiamo sia profumo Che De Euron Poi abbiamo Tutti e tre Per quanto riguarda Argan Quindi per chi ha capelli Comunque secchi Che hanno bisogno Di nutrienti Quindi in teoria Questo set Sono tre prodotti Sempre shampoo Balsamo E siero 10 euro E 99 Nutre i capelli Donando morbidezza E lucentezza Si In verità Questo siero A quanto pare È stato cambiato Perché non è più Quello l'argan Argan E cocco A quanto ho capito Però ha sempre La stessa funzionalità Novità Questo è quello Che vi ho fatto vedere io Si È una novità Di questo Di questo catalogo Ci sono tre prodotti Nuovi Per quanto riguarda I capelli Mi dicono che Utilizzando tutti i tre prodotti I capelli appena lavati Durano più a lungo Quindi non solo Diciamo al terzo giorno Che se sono tipo oleosi Come purtroppo mi risulta Ma Perché al terzo giorno Devo fare Cioè ogni tre giorni Devo fare sempre lo shampoo Perché i miei capelli Perché i miei capelli Risultano grassi Cioè È proprio uno schifo Sì Potrei tamponare Con lo shampoo secco Se devo uscire Devo andare in qualche parte Proprio in urgenza Così Allora ok Con il shampoo secco Mi aiuta Però questa linea Dicono che Vedete aiuta Se il terzo giorno Di shampoo Appare ancora come Quando li hai lavati Senza utilizzare Shampoo E neanche quello secco Come vi dicevo Io ho provato lo shampoo Perché vi ho detto Che ho preso lo shampoo Di questa linea C'è shampoo 400 ml Balsamo Che mi deve arrivare E il gommage Barra scrub Che io non ho preso Perché ho paura Essendo che ho la forfora E come se i capelli Anche fragili Voglio evitare Perché ho paura Capite Quindi tutto il set Viene 12,50 Serve questo Per i capelli grassi Quindi perché I capelli grassi È una linea Adatta a loro E semplicemente Ho provato lo shampoo È un odore bellissimo Però non Cioè Ancora non ho dato Molta differenza Perché ho già A terzo giorno Ho sempre ancora I capelli grassi Quindi secondo me Bisogna utilizzare Tutte e tre I prodotti insieme Poi abbiamo Altri set Che loro vi propongono A 11,99 Per capelli ricci E morbidi 10,99 Per capelli Rigenerati 10,99 Sempre O per capelli Per rendere Comunque capelli lisci E luminosi 11,50 Poi abbiamo A soli si apre 25 Lo spray protezione Calore styling Quindi quello Per la protezione Del calore Spazzole Tinghite Sampi Poi abbiamo Tutte e tre Di Promet Spade La linea Bliss for Nursering Quindi al burro Di carité Africano Che sembra Tipo un cramello Bruciato Ma mi piace molto Tutte e tre Prodotti 14,50 Abbiamo Allora Maschera per mani E piedi Crema per le mani E crema nutriente Per mani Gomiti E piedi Poi abbiamo La solita cosa Pronti per i piedi Set Per quanto riguarda Avon Care Vi danno tre prodotti Tozione corpo Crema mani E barattolone grande 10,99 Burro di cacao Anche qui Si ha Cocco Va bene Anzitutto qui Al melograno Sempre 10,99 Mentre qui Il set al cocco Penso che c'è anche Il Sì 300 corpo e capelli Anziché 5 Cioè Lo pagate 4,99 Se lo volete Però tutti e 4 Ve li danno 15,50 Che a me Secondo me Mi sembra Una bella offerta E poi basta Prodotti per uomo Ah qui abbiamo I set Che potete prendere Tutti e 3 11,50 euro Sono i set Che in teoria Contengono Una lozione mani Un detergente mani E lo spray Profumato Per gli ambienti Bagno schiuma Spray a 2,45 L'uno Sì Con gli spray Insomma Per il corpo Ambiente Novità Il nuovo diffusore Che ho già Ve l'ho fatto vedere Nell'anteprima Ci sono i suoi oli La sua essenza 7,99 Il diffusore 39,99 Che dici Come dire niente Poi ci sono Le altre Candene E i diffusori Coordinati 12,99 Diffusori 9,90 La candela Sono bellissime Perché voi Acquistate Sì il diffusore Che la candela Abbinata Poi abbiamo La fontanella Fontanella Decorazione Gioco d'acqua 14,99 Poi abbiamo La coperta Outdoor 14,99 Quando ci stiamo Sul divano Super sconti Quindi super saldi Fino al 60% Ancora saldi Fino al 60% Veramente ci sono Un sacco di cose Un sacco di cose In super sconto Anche cose di Cucina Pigeameria Anche se sono Alcune novità Reggi i seni Leggings Maglie di cotonella Che sono carinissime Alcuni accessori Borse Orologi Smartwatch Alcuni bijou Come alcuni Tipo questa Novità Che abbiamo La collana Che possiamo Inserire La foto Bracciali Altre collane Sette di orecchini Poi abbiamo Quattro No Tre smalti 15,99 Altri bijou Nuovi Bellissimi Veramente Altre decorazioni Anche diffusori Il diffusore Niente Sempre quello Far away Sempre 16 euro Non abbassa Questo abbiamo 14,99 Quello di san valentino Ancora Alcune cose Di san valentino 26,99 Abbiamo il set Planet Spa Allora In teoria Questo set Cosa contiene Di Planet Spa Innanzitutto Profumazione Lavanda francese E camomilla Contiene Il balsamo Per il corpo Da 200 ml Lo spray Diciamo Da spruzzare Nelle lenzuola Nei cuscini Comunque Nella stanza Da letto Perché Vi aiuta Tantissimo A Prendere sonno Perché Vi rilassa La stanza E poi abbiamo Le gocce Da bagno Questi sono i sali Da bagno Quindi se preferite Tipo Fare il bagno Mettete alcune gocce Alcuni Alcuni sali Insomma Vi rilassate Il costo 26,99 Poi abbiamo I mini set Di Agno Che contiene Acqua Cancellare Il siero Le due creme Quindi Il set Quello del mini kit Costa 19,99 Mentre abbiamo Due novità Che già Non abbiamo visto Sempre nella novità In anteprima Bagno Lo schiuma Da 250 ml Nella Senses In versione Piccola E lo spray Anche Beautiful Moment Si chiama Tutti e due Ve li danno 4,90 Poi abbiamo Nei regali Per lui A partire Da 11,99 Profumi Come alcuni set Tipo Le lite 16,99 Compreso Sempre Detergente Gruppo E capelli L'altro set Musk Marine 13,50 Dove abbiamo Profumo E Dioron Poi abbiamo Con 27 euro Invece La linea Maxima Il con Sempre Veruomo Profumo E detergente Corpi e capelli Al carbone Che è ottimo Altri set Come Black Sued Abbiamo Profumo Detergente Corpi e capelli Dioron Sempre Nella sua Confezione 17,99 Mentre Il set Far Away Beyond Per donna Che abbiamo Profumo Lozione corpo E spread A borsetta 22,99 Poi abbiamo Sempre Set Per donna Ispirate Comunque A San Valentino Quindi Ve li propongono Per questo 27 euro E 50 Il set Maxima Per lei Quindi Profumo E spread A borsetta Oppure Il set Rare Pearl Con La sua Lozione 19,99 Sicuramente La mamica Appena Lo vede L'ordina Poi abbiamo Le versioni Da 100 ml Per quanto riguarda Today Attraction Vengono 26,99 Da 100 ml Mentre Quella Da Sempre 100 ml Little Black Dress 22,99 Poi abbiamo Una nuova Fraganza Che si chiama Set Love You Come si pronuncia Abbiamo La lozione corpo E il profumo 19,99 Una bella Fraganza Devo dire La verità Invece Il profumo Soltanto 17,99 La fraganza E Nettare Di Lampone Nettare Di Lampone E senza Dirlo Se legno Di cashmere Veramente Bella Perché ho sentito La fraganza E anche Il campioncino Ed è una bella Fraganza E niente Questo è tutto Il catalogo Della campagna 2 Spero che ci sono Delle cose Molto interessanti Per voi Ci vediamo Al prossimo video Ciao